Musica Credo che davvero sia bello anche per la scuola ritrovarsi con la presenza dei genitori, persone docente, gli alunni, il dirigente scolastico, credo che sia davvero il modo migliore di fare, di creare comunità non soltanto in occasione di una festività, ma in generale. Significa che in un ambiente scolastico c'è un gruppo, una collettività che si ritrova insieme a vivere tutti i momenti della vita quotidiana e questo è fondamentale per un ambiente scolastico. Un altro momento che esprime veramente il senso della comunità. Il Natale poi si lega in maniera indissolubile ai bambini perché loro sono il senso delle festività del Natale, per cui io però non voglio togliere più tempo a questo momento bellissimo. Vi auguro veramente ragazzi un felice Natale, con domani, domani l'ultimo giorno, o oggi? Oggi, ah! Oggi ultimo giorno, per cui vacanza, va bene? E riposatevi che poi c'è da ripartire, più carichi di prima, va bene? D'accordo? Frassi Natale Fresi Natale Fresi Natale Fresi Natale Lo stesso anno interventuale I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas All my heart Grazie a tutti.